La nostra associazione ha un intento fondamentale che è quello di in qualche modo tutelare Tutela, formazione e sviluppo Nasce ASPIM, Napoli Nord, un'associazione che raccoglie imprese di imprenditori La presentazione ha avuto luogo a Villa Ricca, presso Villa Maria della Lanterna ad aprire i lavori l'architetto Umberto Daniello, coordinatore del progetto associativo La nostra associazione ha un intento fondamentale che è quello di in qualche modo tutelare ma soprattutto anche formare e poi sviluppare Non sono degli elementi slegati ma sono parte di un percorso perché solo attraverso un'associazione noi riusciamo a tutelare quelle che sono le imprese solo attraverso la stessa riusciamo a formare gli imprenditori che oggi hanno bisogno di essere a conoscenza di alcune tematiche e poi infine sviluppare perché andando a colpire questi due punti principali poi arriviamo alla fase di sviluppo L'Aspim è un progetto che nasce per formare e per darci una mano a tutelare noi e quindi i nostri consumatori, quindi i cittadini Nel corso dell'incontro è intervenuto il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola Se uno si associa e crede nell'associazione, sicuramente gli arrivano delle notizie di prima mano dove possono accedere e quindi tentare di risolvere o almeno anche in parte questa crisi energetica che sta panagliando tutto il mondo Grazie 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 Grazie